Agostino Perrone, detto Costantino, è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia. Sostiene il candidato presidente Raffaele Fitto. Ecco, Perrone, il suo rapporto con Fitto non è solo un rapporto di sostegno, in quanto Fitto è candidato della coalizione, ma c'è un rapporto di stima reciproca, di amicizia da anni. Lei stesso mi diceva, io sono stato sempre vicino a Raffaele Fitto, c'è stato un bellissimo rapporto umano e in questo momento ho voluto dare il mio contributo. Sì, io la verità sono stato anche la volta scorsa candidato con Fitto, ma sono un suo fedele come rapporto di amicizia e di stima, come ha detto lei, ho sentito proprio il bisogno di dare questo contributo a lui. Anche lui ha accettato, diciamo, mi ha cercato anche di convengermi di candidarmi con lui. Perché io avevo, ci sono le amministrative alla terza, ero candidato sindaco a questa elezione, però ho ceduto il posto per dare questo contributo a Raffaele Fitto. Cosa può dare Raffaele Fitto come Presidente, ove mai eletto, rispetto agli altri competitors? Direi che Raffaele Fitto, io non sono un tifoso, io credo nella persona di Raffaele Fitto, anche perché è una persona molto competente in politica. Lei dice già le esperienze maturate negli anni e come governatore e come parlamentare europeo, nonché come ministro, ricordiamolo, è stato anche ministro, quindi lei dice rappresentano un biglietto da visita convincente. La Puglia ha bisogno di Raffaele Fitto, anche perché sa come far arrivare, diciamo, le risorse in Puglia, in Italia, anche perché lui è europarlamentare, conosce la strada, io la penso così.